Salve a tutti ragazzi, questo video è un po' particolare perché diciamo è il primo di una serie, non so adesso di quanti episodi verrà fuori però ce ne saranno un po', perché andiamo a vedere un gioco un po' particolare, non è un gioco ma è una serie di giochi tutti nella stessa scatola. Oggi parliamo di 21 giochi minuti. Dentro questa confezione troviamo una serie di giochi, per la stessa 21 ovviamente, ambientati tutti nell'arcipelago di Minuzia dove ci sono questi simpatici esseri che ci vivono, i minuti che fanno una serie di giochi e attività che noi tramuteremo tutti in una serie di giochi. La cosa simpatica è che con una sola confezione vi portate dietro 21 giochi possibili, i materiali vengono riutilizzati a seconda del gioco e troverete una grande varietà dei giochi, da quelli un po' più facili a quelli un po' più difficili, dai party game a quelli un pochino più mirati strategici, ci sono giochi di bluff, giochi di draft, un po' di tutto insomma, anche dungeon crawler. Quindi per prima cosa andremo ad esplorare cosa contiene la confezione, questo ovviamente lo contiene per tutti i giochi e poi inizieremo oggi a parlare dei primi due giochi, ve li presenterò in ordine di come vengono detti dentro il manuale, così non potrete confondervi se seguirete tutta la serie dei giochi, saprete di averli visti tutti quanti. Andiamo a scoprire il contenuto della confezione. Nella scatoletta troviamo il regolamento, o meglio i regolamenti, ce n'è una serie, vengono presentati tutti quanti con delle particolarità, vi viene detto il numero di giocatori, possibile, può variare da 2 a 4 a 6 o anche infiniti tecnicamente in certi cosi. La tipologia del gioco, ad esempio questo primo gioco ci dice che è un gioco che è una corsa, sono aste segrete, sono scelte simultanee, ma altre volte abbiamo party game, velocità di risposta. Poi per ogni gioco viene anche presentato qui un grado di difficoltà, da 1 a 3, sulla strategia diciamo da applicare e anche un grado di difficoltà nelle meccaniche e un grado di strategia da applicare all'interno di esse, anche questo da 1 a 3. All'interno troviamo delle schede, indovinate quante ovviamente 21, ognuna di queste schede serve per un gioco o per più giochi, viene menzionato qua il suo numero, alcune sono double fast perché possono essere giocate nello stesso gioco ma in due versioni, come ad esempio questa o questa qui, altre invece hanno una faccia, questa anche di nuovo double fast, altre invece hanno una faccia dedicata a un gioco in particolare, il retro come vedete fatto così e tante altre che serviranno poi per un super gioco di engine crawler che viene dopo. Ad ogni gioco vi vedete qual è la scheda esattamente da utilizzare, leggerete qua il numero. Abbiamo poi al suo interno un sacchettino di plastica, di stoffa scusate, che ci serve poi per nascondere e pescare casualmente eventualmente quello che ci serve. Abbiamo anche un dado, quattro dischi neri e quattro dischi bianchi e prendiamo 60 cubi in sei colori, dieci per ogni colore, rossi, neri, bianchi, gialli, verdi e blu. Infine sul fondo della scatola trovate anche questa qua che è una sorta di segnapunti che vi servirà in certi giochi, potete anche estrarlo dalla scatola e tenerlo fuori, ma trovo che sia molto più comodo usarlo nel fondo della scatola. Iniziamo a vedere il primo gioco, la gara fluviale, è un gioco da due a sei giocatori, piuttosto semplice, è una corsa con aste segrete, non ci servono i dischetti a questo giro. Ogni giocatore prende i suoi dieci cubetti del colore che ha scelto, poi ci servirà ovviamente la scheda numero uno, chi l'avrebbe mai detto, il dado. Ogni giocatore prende un cubetto e lo mette sulla casella iniziale. Questi qui che vengono utilizzati qua, che saranno i segnalini sulla gara, saranno i cosiddetti fantini. Poi ogni giocatore prende nella propria mano nascondendoli tutti gli altri cubetti e non li fa più vedere agli avversari, quindi non saprete gli altri quanti ne avranno a disposizione. E siamo pronti per iniziare la partita. La partita si attraversa una serie di round di gioco, tutti quanti divisi in tre fasi. La partita termina quando un giocatore arriva col suo fantino fino al traguardo, oppure quando nessuno ha più cubi energia da poter spendere per poter andare avanti. Vedrete, adesso vediamo come vengono spesi. Ogni round dicevamo in tre fasi. La prima fase è il lancio del dado, quindi si prende il dado e si tira. Si possono verificare due casi. Se il risultato è un numero dal 2 al 6, esso indica quante caselle si possono muovere i fantini, sempre che riusciamo a muoverli. Poi vedremo come. Se invece il risultato del dado è 1, non finirà un movimento in quel round, ma tutti quanti i giocatori possono recuperare un cubo energia tra quelli già scartati. E il round termina qui. Se invece, come dicevamo, si va da 2 al 6, il round prosegue e si va alla fase numero 2. Dopo aver visto il risultato del dado, ogni giocatore sceglie segretamente quanta energia scommettere per cercare di muovere il fantino in quel turno di quel numero di caselle. Cosa fa? Guarda nella sua mano quanti ne ha ancora, ne prende quanti ne vuole, anche 0 volendo, e li pone nella mano che prepara. Bisogna che tutti quanti chiaramente, insomma, scelgano cosa fare. Nel momento in cui tutti hanno scelto cosa fare, vengono rivelati i cubetti di energia scommessi. Chi ha scommesso la quantità di cubi di energia maggiore muove il proprio fantino del numero di caselle indicato dal dado. Se più persone hanno scommesso la stessa quantità, tutti quanti si muovono di quel numero. Successivamente, dopo di loro, tutti quelli che hanno scommesso una quantità inferiore di dadi ma hanno almeno scommesso un cubo energia, muovono il proprio fantino di una casella soltanto. Chi ha rivelato invece 0 cubi di energia, resta fermo. Tenete presente che al termine dei movimenti tutti i cubi di energia che avete scommesso verranno scartati, quindi li metterete di fronte a voi e non li terrete più in mano. State attenti perché quando non avete più energia chiaramente il vostro fantino non si muoverà più, però ora capite l'importanza del fatto che ogni tanto esca l'uno e che possiate richiapparvene uno in mano. Proseguite con il round in questo modo, come dicevamo, fino a quando un giocatore non supera il traguardo, oppure fino a quando tutti quanti hanno dovuto scartare dalla mano tutti e nove i cubi che gli sono rimasti, ricordiamo che uno è lì, e che quindi non possono andare più avanti. Il giocatore che taglia per primo traguardo è il vincitore, se invece tutti i cubi di energia sono stati scartati vince il giocatore che è più avanti e quindi è più vicino alla linea del traguardo. Se anche qui potrebbe anche capitare che ci sia un pareggio, nel qual caso la vittoria viene condivisa. Parliamo ora del secondo gioco possibile, ovvero Occhio d'Aquila. È un party game con velocità di risposta, si può giocare da due a sei giocatori. Ogni giocatore qua riceve soltanto cinque cubetti del suo colore, li potete anche lasciare appoggiati perché qui non serve tenerli nascosti. Serve sempre il dado e serve la scheda numero due, scheda numero due a due facciate. Ora come andremo a vedere fra poco alcune sono un po' più facili, altre un po' più difficili, quantomeno perché uno è un po' più oggettivo, l'altro un po' più soggettivo. Ci sono come vedete dei numeri di dado che corrisponderanno al lancio di dado e sotto tre file con delle categorie particolari, ognuna nella categoria che può essere come dire di diversa tipologia e qui ce ne sono altre tre di categorie sempre con sei. Lo scopo del gioco sostanzialmente è quello di essere il più rapido a dire rispetto a un oggetto di partenza che si è definiti insieme una cosa che sia con la caratteristica indicata dal tiro del dado sulla colonna su cui si desidera giocare. Ci sono dicevamo tre file, scusate sulla fila che volevo giocare, sulle file. Le file sono di vario genere, abbiamo ad esempio gli oggetti nella stanza e che quindi richiede che può essere più grosso, più piccolo, più oscuro, più luminoso, un maggior numero di volte presente, oppure l'ultimo è, scusatemi che non me lo ricordo, è il più rumoroso quando cade, giusto? Poi si parla di animali, può essere più alto, più basso, più veloce, più lento, più pesante, più leggero. Infine abbiamo giochi e qui dovete definire un po' voi con gli amici prima di giocare, che tipologia di giochi volete fare, sport, giochi da tavolo, giochi possibili, vedete un po' voi. Gioco più vecchio, più recente come invenzione, da più persone, da giocare in meno persone, più lungo come tempo, più veloce come tempo. Queste tutto sommato sono categorie abbastanza oggettive, no? Dietro invece è un po' più difficile, se siete esperti potreste giocare con queste categorie, perché si parla di piatti e pietanze, ovvero di cibi, che sono magari più difficili da preparare, più facili, più salati, più pesanti, più leggeri, più dolci o più salati, però ognuno ha i suoi gusti, quindi magari è un po' diverso l'interpretazione che viene data. Poi c'è una categoria di personaggi, e anche qui decidete voi se volete fare il reale di fantasia in entrambi i casi. Abbiamo più cattivo, più buono, più forte, più debole, più simpatico, più antipatico. Infine l'ultima categoria si parla di film, libri, serie tv, insomma storie diciamo inventate, e avete la categoria più spaventoso, più divertente, meglio realizzato tecnicamente, più adrenalinico, più avventuroso, più cervellotico. Anche qui come vedete diventa molto molto soggettivo. Quando avete deciso con quale lato giocare, se è la prima volta io, o se avete anche bimbi più piccoli, vi consiglio questo lato, ognuno prende i cinque cubi e iniziamo il gioco. Per prima cosa scegliete quale delle tre file utilizzare, ovvero quelle delle tre categorie mettere in sfida, e nominate un nome iniziale. Ad esempio dalla categoria animali potreste decidere che per iniziare nominate il gatto, ok? Che è il punto di partenza. Poi si fanno una serie di round di gioco in questo modo, che si giocano contemporaneamente. Un giocatore lancia il dado, e a seconda del numero che è uscito, nella sua categoria, va a vedere che cosa è richiesto. Qui viene richiesto una cosa più alta, abbiamo detto, ok? Allora voi dovrete dire, cioè più grande ovviamente, più alta, più grande, più piccola e più basso, direi anche più piccola. Ad esempio, viene messo più grande, il primo giocatore che risponde in modo corretto, nominando un animale che non è ancora stato nominato in questa partita, che è più grande del precedente, mette un cubetto. Ad esempio potrei dire cavallo, decisamente più grande del gatto, vero? Dopo che il giocatore ha risposto e scarta il suo cubetto, un altro giocatore riparte a tirare il dado, e si vede cosa succede. Stavolta ad esempio abbiamo tre, viene più veloci, io ho detto cavallo, uno potrebbe dire ghepardo. Ricordatevi, non potete mai riutilizzare un nome già uscito, ad esempio dopo il cavallo se esce il due e diventa più piccolo non posso riutilizzare il gatto che era già stato utilizzato precedentemente. Si prosegue in questo modo fino a quando un giocatore non è riuscito a scartare tutti i suoi 5 cubi. Il gioco è abbastanza veloce, pertanto io vi consiglio ad esempio di provare a giocare una serie di partite, sempre da 5 cubi l'una, sfidandovi su tutte le categorie e vedere chi è che ne vince di più. Avete visto i primi due giochi in introduzione, continuate a seguirci, pertanto vi conviene iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati, pian piano vi faremo vedere tutti quanti i 21 giochi qua presenti. Alla prossima!